Tradotto in italiano significa di frodo. Perché probabilmente lui dalla vita che faceva alla musica c'è nato ma c'è passato di frodo. E la sua storia lo racconta, perché era un grande lavoratore. E noi ve lo presentiamo, ladies and gentlemen, popolo kumaska, Davide D'Arm! Come siete bravi! Vediamo se Davide arriva. Lasciamo il palco. Arriva, arriva, arriva. Davide, eccolo! Davide, benvenuto! Il palco pubblico è tutto tuo! Ogni ho sentito! Andiamo! 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 Voi, Voi, Voi! Grazie a tutti. 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 Buon primo bacio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.